in occasione della viareggio bastia viareggio qui al club nautico versilia di viareggio è stato presentato anche l'ultimo libro di fabio pozzo big mama scritto con hugo vao siamo qui con fabio pozzo è stata una bella presentazione no molto bella molto bella molto coinvolgente sentita anche se poi l'ambito è velico ma in realtà il mare è uno solo ecco ricordiamo è stata una presentazione molto bella perché c'era anche qui hugo vao che adesso è tornato a casa sua alla zorra big mama che libro è cosa troviamo qua dentro è il libro di un racconto di una storia di una storia di mare di oceano un'impresa incredibile secondo me è un uomo che aspetta un'onda da sette anni un'onda incredibile gigantesca 35 metri d'altezza la cavalca e riesce anche a sopravvivere allora ovviamente non ti chiedo di raccontarci troppo del libro io l'ho cominciato a leggere ieri sera secondo me c'è anche qualcosa di più c'è anche qualcosa di storia tipo di un paese che ritrova una rinascita attraverso il surf magari c'è anche qualcosa proprio che parla anche proprio di cultura diciamo geologica marina insomma secondo me si troverà anche qualcosa di più questa è la mia impressione certo c'è la storia di come mai questo paese della nord di lisbona è diventata la capitale mondiale delle onde giganti ci sono storie di uomini beh poi c'è la storia di ugo che è molto particolare c'è la storia di quel giorno della dell'onda incredibile e poi c'è la storia di quello che è successo dopo e di come in fondo un'impresa di questo tipo si possa sfruttare per un fine nobile che è quello della salvaguardia del mare allora senza andare troppo in là l'ho detto ho letto le prime pagine tu arrivi a nazare mi immagino che insomma da lì a poco il libro è raccontato in prima persona da lì a nazare cerco di capire che posto sia i luoghi le persone la storia il progetto di marketing che ha lanciato questo paese e nel frattempo aspetto ugo vao che deve arrivare a nazare dalle azzorre dove abita e poi proseguiamo insieme la strada e la storia va benissimo allora io dalle prime pagine che ho letto ho capito che se volete vedere queste onde gigantesche che sono anche sulla copertina del libro dovete andare a nazare tra ottobre novembre e marzo mentre il libro big mama di fabio pozzo con ugo vao lo potete leggere quando volete tutto l'anno grazie fabio grazie a voi